No, ma sono sbagliato, ragazzi Diogami Ah, vingate, vingate Gassato E' one shot E' morto Ho buttato uno qua E' a terra Questa uno qua sotto l'hai vingato Viva, viva Eccolo Questa uno qua sotto l'hai vingato acqua arrivo arrivo comprate piazza c'è gente sopra sto salito cracato sto salito ti ha buttato uno a terra nella torre eh serve il bombardino eh si 27 metri sta sotto sta sotto WTF sta sotto sta sotto può essere che scendono da ascensore eccoli 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 ma uno solo eh no due uno è sceso uno è sceso grazie your mother your mother non ho dietro il fan si 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 LOL come in c'è un altro ciao c'è ma danno le vali questi raga intiamo andare sennò ci chiudo iiii davanti 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 dove dove grande qua raga eccolo eccolo ma mi ha sfornato d'armuto d'armuto so safe eh mi ha sfornato qua nel nel garagino saltino 8 guapa attento qua davanti qua davanti non ti metto da due questo che è cado qua dietro al mudo scusate a terra fatto oh io tiro da parte guarda 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 cazzo si è messo da sopra che è accaduto dai vediamo tutti i cratti ma che cazzo del gioco è siamo 4 contro 3 sono dall'altra parte ragazzi buono attenzione mi sparo stiamo attenti stiamo attenti stiamo attenti facciamo un shop lo vorremmo che sa eh non non avete i soldi non avete i soldi uno lo vedo uno lo vedo là davanti davanti qua che è accaduto uno sta già crossando oooh oooh dica la spada si noo raga no 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 guarda di fronte ah mi sta sparando ah in botte ah in botte una a terra due a terra bravo bravo mi spara quello eh esatto quello la mi sta sparando vuol dire noo che cazzo di velocità si sono restato vieni dietro fermo no 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 è narto ho craccato guardami destra guardami destra guardami destra guardami destra guardami destra noo cazzo eccolo lo vedo a terra da destra 18 noo che c**o questo pezzo di merda doveva imposto ragazzi stiamo in contatto fuori fuori siamo a